Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Profste, oggi è venerdì 12 dicembre 2014 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra video analisi settimanale che torna dopo una piccola pausa in una versione completamente rinnovata, più approfondita e come sempre puntuale e precisa da più di otto anni ormai vi accompagna ogni settimana, vacanze, non vacanze, estate, inverno e anche adesso sotto Natale, in quella che è l'analisi dei menti specati. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito appunto in questo periodo e che appunto oggi venerdì 12 dicembre sono benvenuti, come vedete sono le 22.25, i mercati hanno chiuso da pochissimi secondi, da pochissimi minuti, sono benvenuti alla nostra video analisi settimanale. Come sempre in due, due sono le fonti principali sulle quali vi potete informare, il sito Profste sul quale fondamentalmente ormai c'è, devo dire molto poco perché il fulcro di tutta l'informazione, di tutti gli aggiornamenti, soprattutto quelli anche che ogni giorno o quasi pubblichiamo sulla pagina Facebook Profste, ecco, vi danno modo di rimanere comunque aggiornati su quelle che sono le tematiche appunto in corso ogni settimana. Diciamo appunto i future che ritornano, qui vedete le scadenze di dicembre, insieme a Visual Trader, insieme ai grafici storici che sono questi qui che vedete con tanto di volumi, insieme al market profile, questo è il piano di lavoro che utilizziamo con il Profste Trading Group ogni giorno nel trading sui mercati e con i grafici intraday. Qui sotto abbiamo i grafici orari, sempre per i future e indici che seguiamo, quindi come sapete per l'Europa Eurostop 50 e DAX, per quanto riguarda gli Stati Uniti S&P 500 e Nasdaq, sotto ci sono i grafici orari e sopra i grafici NTIC che sono quelli che come sapete seguiamo per quanto riguarda l'intraday. Ma veniamo ai temi della settimana, vediamo che cos'è successo. Ecco, in buona sostanza è accaduto che la naturale conseguenza di quello che era stato il movimento di negazione della rottura al rialzo da parte del DAX che abbiamo visto settimana scorsa, rottura dei massimi precedenti che rappresenta tuttora, sopra il livello dei 10.000, un primo allarme di eventuale inversione al rialzo di un trend che però rimane decrescente e lo si è ben visto in questa settimana tutta negativa e con un'accelerazione di negatività avvenuta proprio nella giornata di venerdì 12 che ha portato a chiudere quasi sui minimi di giornata sicuramente e quasi in zona 3.000 all'Eurostop. Quindi è sicuro che la negatività si è fatta sentire e l'innesco della negatività è stata proprio risolversi di quella divergenza. Vi ricordate che due settimane fa avevamo il DAX sopra i massimi precedenti, un Eurostox in divergenza che era ancora sotto di pochissimo, lo vedete, quell'area dei 3.300 appunto rappresentata dai massimi precedenti. Ecco, questa divergenza che abbiamo ben segnalato e che era da risolvere, si è risolta settimana scorsa perché ricorderete nella videoanalisi di settimana scorsa avevamo chiuso di pochissimi tic al di sotto del massimo precedente, quindi c'era stato un riallinearsi del DAX alla negatività dell'Eurostox che ha poi portato alla negatività più generale che abbiamo visto questa settimana con questa fortissima accelerazione avvenuta nella giornata di venerdì 12 appena conclusa, preceduta ancora dalla negatività del mercoledì, dopo che nella giornata di giovedì, lo dicevamo appunto sulla pagina Facebook, c'era stato un parziale recupero almeno per metà giornata, poi dalla chiusura dei mercati europei 17.30 18 circa di giovedì 11 c'era stato un ritorno di negatività e poi la conseguenza naturale nella discesa di giovedì 12, ma è tutto conseguenza della risoluzione negativa della divergenza tra DAX ed Eurostox. Allora, e mi raccomando, i trend sono ancora decrescenti, andiamo a vedere i grafici storici che finalmente sono tornati con tanto di volumi, ricorderete anche come avevamo segnalato più volte che i volumi durante la discesa precedente erano in salita, mentre durante tutto il recupero per quanto lungo e durevole, perché durato da ottobre e per tutto il mese di novembre, quindi un mese e mezzo abbondante, i volumi sono stati in discesa, ricordate che dicevamo come addirittura negli Stati Uniti questa discesa dei volumi sulla salita fosse particolarmente evidente. E guardate invece sulle discese come i volumi siano crescenti, cosa che si propone anche in questi ultimi seduti, lo vedete anche qui, anche negli Stati Uniti, quindi è assolutamente importante comprendere come questi segnali siano segnali da non sottovalutare, perché gli inviti alla cautela sono stati fatti per tanto tempo, durante tutta la salita, quando l'E7500 faceva segnare comunque i massimi storici, i massimi di tempi, e quando negli Stati Uniti è ancora ben presente, la positività era in dubbia comunque, ma con un invito alla cautela, dovuto al fatto che in Europa DAX ed Eurostoxx fossero comunque ancora, paradossalmente quasi, malgrado i recuperi, ancora in trend decrescente, recuperi molto forti. E adesso la conseguenza del trend decrescente si è vista, perché il trend rimane ribassista in Europa, infatti le discese in Europa sono molto più marcate delle discese negli Stati Uniti. Quindi la divergenza segnalata un paio di settimane fa è che si era risolta in negativo settimana scorsa con un DAX che aveva chiuso di nuovo dentro il massimo precedente, scusate prima, ecco, di nuovo dentro il massimo precedente, ha avuto poi come conseguenza questo riallinarsi negativo del DAX sulla negatività dell'Eurostoxx e risolvere la divergenza appunto negativo con lo stesso, le discese di questa ultimana, che hanno iniziato a farsi sentire anche negli Stati Uniti e, cosa non trascurabile, non manchiamo di osservare che comunque sulle discese i trend, i trend e il volumi è crescente, quindi ci sono volumi in aumento, cosa che comunque, come detto, indica alla cautela. Allora, abbiamo un'Europa che è in trend giornaliero decrescente, con un DAX che comunque qui al di sopra di 10 mila fa a segnare un massimo superiore al precedente, quindi eventuale allarme di inversione al rialzo del trend che rimane giornaliero ribassista. Primo allarme di inversione che non c'è stato invece sull'Eurostoxx perché appunto, e qui c'era la divergenza, non ha fatto segnare nuovi massimi. Negli Stati Uniti invece abbiamo un trend rialzista che dura da tempo, perfettamente intatto, almeno per ora, malgrado la forza delle discese di questa settimana che ha, lo vedete proprio in questi istanti, riportato l'S&P 500 dai massimi di tutti i tempi, di nuovo in quella zona 2000 che appunto e tante volte aveva fatto segnare. Ma detto questo, quello che vorrei sottolineare ancora una volta è cercare di capire perché, malgrado la positività che avevamo assistito a partire dal mese di ottobre, questo recupero, il trend rimanesse ribassista. Perché in termini di teoria di Dow non c'era ancora stata una, appunto, come detto, un segnare, un massimo superiore precedente, seguito poi dal minimo superiore precedente e quindi una ripenetrazione che avrebbe invertito il trend al rialzo del massimo superiore. Questo non era avvenuto, su questo si è giocata la divergenza tra DAX e Euro Stoxx, perché DAX appunto qui aveva fatto sì segnare un massimo superiore precedente, quindi un primo allarme di inversione a rialzo del trend da Nero sul DAX, ma poi rientrando all'interno dello stesso si era riallineato alla negatività dell'Eurostoxx. E ripeto, ancora una volta tutto molto chiaro, il metodo lo aveva ben segnalato, la divergenza risolta negativo ha avuto come conseguenza le discese di questa settimana, ma resta una divergenza ampia tra la situazione europea e quella statunitense, perché malgrado le discese di questa settimana è ovvio, il trend è ancora positivo, è ancora rialzista su base di giornaliera negli Stati Uniti e questo è sicuramente un elemento molto importante. Quindi per ora ancora una confermata Europa in trend giornaliero decrescente e gli Stati Uniti in trend crescente. Per quanto riguarda la discesa in atto, si tratterà di vedere se e dove terminerà, cioè in area Eurostoxx superata quest'area dei 3.000, soltanto il massimo precedente. Non ho detto che arriverà più in là, ma che sono gli obiettivi naturali, quindi prima l'area dei 3.000 che sostanzialmente è stata raggiunta nella giornata appena conclusa di venerdì, che era poi quell'area su cui poggiava la condizione di cui parlavamo appunto all'inizio del mese di novembre, superata la stessa si va verso i minimi precedenti. Bisognerà vedere se e come ci si arriverà e se eventualmente si ripartirà verso l'alto prima dell'aggiungimento degli effetti. Il DAX sta ancora un pochino sovraperformando rispetto all'Eurostoxx, lo capite bene perché se prendiamo come riferimento quest'area di congestione, vediamo che il DAX è ancora al di sopra della stessa, mentre l'Eurostoxx proprio nella giornata di venerdì 12 va sostanzialmente ripenetrata tutta al ribasso. Vedremo poi di che cosa si tratta. Per quanto riguarda l'SMP500 e il NASA, quindi ancora trend crescente negli Stati Uniti, ripeto, ma è grado alla forza delle discese. Quindi sicuramente la discesa europea è legata al fatto che il trend giornaliero in Europa sia stato per tutto questo tempo ancora e comunque decrescente. Ma è altrettanto vero che la situazione preoccupa, preoccupa perché c'è sicuramente una crisi a livello economico e finanziario europeo che stenta a risolversi e chiaramente anche le misure della Banca Centrale Europea, lo avete visto, si sono fatte sempre meno efficaci, malgrado di loro tentativi di ripetersi. E questo per motivi ovvi e che conosciamo ormai dal 2007, ovvero che le ragioni di questa crisi sono profonde e radicate e che se è vero che in parte negli Stati Uniti erano state messe da parte, erano state risolte in Europa, anche per il discorso euro, moneta unica e politica fiscale monetaria appunto a livello europeo, i motivi della crisi, le ragioni della crisi, lo vediamo, sono ancora molto ben presenti. Quindi a livello trading, a livello mercati è sicuramente importante seguire le tematiche e capire bene quello che sta succedendo, anche se la speranza resta per tutti, quella di un risolversi della crisi e cercare di fare in modo che l'Europa riesca appunto a livello finanziario ed economico a uscire da questa situazione che purtroppo resta ancora molto grave.